Questo è per cui mi dato delle fate. Ho preso il libro alla Biblioteca Lusso, dove c'è stato un incontro proprio su questo libro, Padre Padrone e Padre Eterno. Io leggerò alcuni momenti del libro, delle pagine, perché è interessante quello che noi stiamo facendo con le nostre letture. Lei inizia con il capitolo Essere Donna. Essere Donna l'ho sempre considerato un fatto positivo, un vantaggio, una sfida gloriosa e aggressiva. Però io non vi leggo tutta la pagina, tutt'al più ve la scansiono per poi se vi va di proseguire. È importante perché noi ormai questa biblioteca ce l'abbiamo, che è il caso, che conosciamo anche di più questa donna, chi era, come la pensava. Lei era nata nel 1912. Io faccio il calcolo con mia madre, che era nata nel 1919. Due donne completamente diverse, belle tutte e due, ma comunque estazioni sociali diverse, molto diverse. Lei qui dice, quando parla dell'omosessualità, che non trae dal più totale dei rapporti umani tutta la ricchezza che dà appunto la diversità, con quel tanto di imprevedibile, di mai completamente conosciuto e posseduto, che stimola l'allegria della ricerca e dell'illusione poetica. Non aveva nessuna attrattiva, seppure nutrita da distrutti classici di Corvidi e di Platone. Non mi era mai stata indicata come un crimine e una malattia. Se è vero che è stato, io leggo qui dietro che è stato ripubblicato nel 2022, lo pensava subito dopo la guerra, lo pensava nel 67 quando è stata fatta la riedizione. Io mi fido poco delle case editrici, questo più che altro. Comunque è interessante, qui continua. Con le donne simili e prevedibili ho sentito sempre una solidarietà profonda, una possibilità di amicizia, senza diaframmi, purché naturalmente non fossero reazionari o borghesemente frivole ed ottuse, per quanto non avessi subito le repressioni alle quali la maggioranza era ancora soggetta. Ero assai consapevole che una liberazione a titolo personale non esiste e che ci si libera tutte o nessuna è libera.